Senatore Centinaio, dopo i crolli adesso anche i furti a Pompei. Sì, siamo arrivati ormai al ridicolo. Il problema è che chi ride è tutto il mondo in questo momento. Pompei, che dovrebbe essere la punta di diamante di un'Italia che potrebbe vivere di cultura e di turismo, in questo momento non è in grado di poter reggere il confronto con tutto ciò che gli gravita intorno. E quindi ci troviamo di fronte a crolli sistematici e ci viene detto che crolla Pompei perché piove. E qui ormai siamo alle battute ridicole. Ci troviamo di fronte a furti. E qui parlando dell'ultima cosa che è successa, quindi il furto di un affresco. ci troviamo di fronte a uno Stato italiano che in questo momento non è in grado di gestire 104 milioni di euro che l'Europa ha dato all'Italia per ristrutturare e mettere in sicurezza l'area di Pompei. 104 milioni di euro che dovrebbero essere spesi entro il 2015 e in questo momento ne sono stati spesi solo 500 mila euro. L'UNESCO ci ha anche detto che se le cose vanno avanti così toglierà il patrocinio dell'UNESCO all'area di Pompei. E quindi in questo momento noi come Lega siamo molto arrabbiati perché ancora una volta ci sentiamo presi in giro, perché i soldi vanno sempre in una stessa direzione e vengono usati male. E a questo punto non chiediamo solo le dimissioni del Ministro ma di tutta la filiera, dal Ministro all'ultimo degli operatori che in questo momento stanno operando su Pompei. Stanno dimostrando che negli anni non sono riusciti a fare niente e nonostante le promesse vanno avanti a non fare niente.